ma quanto veniamo coccolati e quanto si sta bene guardateli tutti i due sulle mie gambe oggi è la prima volta come vedete ho aperto il recinto io praticamente mi sono messo a seduta per terra e loro sono venuti su questo anche un modo di a questo se li do il radicchio e ci vanno matti a date radicchio e loro adesso posso fare quello che vuole la tenerezza vedi ho detto che si incazza perché il vetro si mette sopra adesso sentite che belli vanno cioè tutti i giorni sto scoprendo altre cose i gatti sono in giro è però ritengo questo è anche il modo oggi è la prima volta perché ho detto adesso provo e questo è anche un modo io c'ho due ma per dire è un modo di anche per chi cominciano a fidarsi se è il massimo se è loro possono scappare dentro come vedete guardatelo è già scappato dentro adesso ecco questo è il modo di per dire di non che non che non abbiano il pericolo che non abbiano il pericolo che non abbiano il pericolo e che si possono tenersi tranquilli guarda lui ancora lì che roste che mangia l'altro è già andato dentro appena che si vede il piatto però si sente proprio ecco adesso loro stanno bene e sono felici cioè proprio mi dedico il tempo ogni momento io vi faccio sempre una sorpresa nuova ecco io vi auguro una buona giornata oggi è già arrivato venerdì e domani questo qua Mori che mi ha conquistato il mio cuore al massimo perché io so quello che gli piace vedete più coso ecco adesso anche lui come vedete anche lui intanto è basso non succede niente loro vengono si rampicano e vengono su sulle mie gambe ecco adesso li metto dentro e guardateli la gabbietta è aperta ecco adesso loro hanno fatto il loro giro sono stati coccolati e viziati e adesso io lì la cassetta pulita c'è anche dentro il fieno l'acqua fresca e adesso anche loro guardatelo adesso è felice adesso si pulisce il musetto guardalo Mori troppo dolce adesso adesso vado dentro vi faccio vedere c'è apro anche la parte superiore tanto è aperta non succede niente anche la parte superiore non succede niente allora non succede niente